Comandante Zavala vuole riunire l'avanguardia. Mentre lui si prepara per l'assalto all'Onnipotente, noi troveremo Cade e Ikora. Per fortuna abbiamo intercettato uno strano segnale dallo spettro di Cade, amplificato da un centauro chiamato Nessus. Il che è strano. I centauri sono solo grandi rocce galleggianti alle estremità del Sistema Solare. Dovrebbero essere privi di vita. Meno male che non c'era niente qui. Raggiungiamo una posizione elevata così posso rintracciare Cade. Ci siamo. Sto rintracciando il segnale di Cade. Credo di aver captato qualcosa. Dentro fino al collo! Trappola Vex! Face safe! Trappola Vex? In che guai si è cacciato Cade stavolta? Qualcosa in questa zona sta inviando il segnale nello spazio. Se riusciamo a trovarlo, troveremo Cade. Ecco, il segnale proviene dal relitto di quella nave. Salve, sei qui per salvare il Cade 6? Ehi, tu non sei Cade. Il Cade 6 è intrappolato in un ciclo teletrasportazionale. È lì, ora è lì. Invece ora è lì. Si sta muovendo. Sarà complicato. Posso aiutarti? Ma io non ti aiuterò. Aspetta, cosa? Ti invio le sue nuove coordinate. O se per me non l'avrei fatto. Eh, ok. Posso aiutarti in qualche altro modo? Eh, stai bene? Sembri un po' strana. Io sono il sistema di bordo di Esodo Nero. Chiamami Failsafe. Ho amplificato il segnale di Cade 6 sperando che qualcuno venisse a salvarlo. Ed eccoti. Ah, capito. È soltanto un'IA. Un'IA mal funzionante. Ti ho sentito. I centauri dovrebbero essere immensi blocchi di ghiaccio. Ma cos'è successo qui? Al tuo servizio. C'è qualcuno? Sentite, non chiedetemi cos'è successo. Non ho tempo di spiegare ciò che non ho tempo di capire. Attenzione, i Vex si disintegreranno. Che обычно di Vex si Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il Cade 6 ha tentato di manipolare il sistema di portali Vex Ora è intrappolato in un ciclo discontinuo In mia difesa l'ho cordialmente avvertito Cioè ma... non è molto furbo Sto cominciando a perdere le speranze Da quanto tempo sei qui esattamente? Abbastanza da vedere i Vex convertire l'intero planetoide Uccidendo ogni organismo vivente Riformattandone le molecole e digitalizzandone i cervelli È stato un processo affascinante Sembra un po' troppo eccitata a proposito 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 Distruggere i Vex è la tua specialità Molto meglio del mio equipaggio Ho quasi paura a chiedere Ma... Ehi safe Cosa è successo all'equipaggio di esodo nero? Sono il mio capitano Ha accesso a quei dati Ed è stramorto Il Cade 6 è proprio oltre quel portale Vex Procedi pure Non rimarremo intrappolati come Cade No no Il mio modulo valutativo è molto più affidabile Di quello dell'unità Cade Ce l'abbiamo fatta Siamo passati Ovviamente Il Cade 6 non è lontano Ehi Non è lontano Non è lontano Non è lontano Il Cade 6 non è lontano È lontano Cade 6 non è lontano Ehi! Sono qui! Liberatemi! Cos'è questo? È un idra? Ok, prima occupati di lei, poi pensa a me! Ehi, grande! Ottimo lavoro, credito! Continua così, a meno che non stia perdendo, in quel caso mira meglio! Ehi, l'hai abbattuta! Continuo a girare qua dentro e sto veramente provando a non vomitare! Su! Dai, veloce! Non so quanto durerà questo portale! Cade, ma che cosa... Ascolta, è una lunga storia, so che sembra non abbia un piano, ma ce l'ho, ok? O forse no, ma non importa! Spegnere la fonte energetica al punto d'origine spezzerà il ciclo e potrò uscire dal sistema di portali! Hai capito? Dimmi che hai capito! Di qualcosa! Va bene, lo dico! Abbiamo capito! Ora come facciamo a... Per l'amor di Rasputin, ma avete sentito quello che ho detto? Credo sia questo il motivo per cui lo tengono chiuso alla torre!